Concludo questa informativa ricordando esattamente le parole utilizzate dal Presidente Draghi con riferimento al dossier TIM, cioè un dossier di straordinaria importanza, in cui le priorità sono la protezione dell'occupazione e proprio nelle ore scorse abbiamo avuto un incontro con i sindacati del settore per approfondire questi aspetti, la protezione della tecnologia, la dimensione della frontiera tecnologica in questo settore è una delle frontiere fondamentali anche in termini prospettici e fa parte, larga parte del progetto del Piano Nazionale di Ripeso della Resilienza, e la protezione della rete. È indiscutibile che all'interno di TIM esistano degli asset di natura strategica per cui è indispensabile il controllo pubblico.